Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ah, cosa? Sei seduto, sei seduto? Allora, bene gatto, sei seduto, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Allora, bene gatto, sogno che torna aereo, passando aereo e dall'altra volta, sogno che siamo tornati, si è rimasto solo questo pesce, guarda, si è rimasto solo questo pesce, e lo vogliono fare al limone. Allora, ci vogliono fare al limone. Allora, io al limone lo faccio così, guardate, semplice, faccio un po' di pettina al limone, perché questo si può fare al limone, all'arancio, come se vuole. facciamo un lestino, come si dice, un lestino, un lestino, una lestica, una colla, al limone e ci mettiamo il pesce, il pesce, il suo cane si mangia proprio il pesce, il cane che mangia il pesce non deve essere. Allora, guarda, così, facciamo un lestino, una lettica, una lattuga, il limone, così, vedete. Ecco. Ecco, così. Così il pesce si prende il sapore di limone, perché una volta è avuto un signore in cucina, ma questo pesce è fresco. Un lavoro, figlio, un pecorino. Bello, ghiacciato. No, diceva, se non c'era il pescato in giornata. Non lo so, il pescatore c'era la notte a pescare, non lo so, perché a pensare la notte, perché nel mattinato, non lo so, sette giorni. c'era il pesce. Allora, c'era il pesce, vedete, in questo tavolo di là che sta mangiando alla sua testa, non è stato lì, c'è un signore che l'ha mangiato. E si muove ancora. Guardate che era fresco il pesce. Tutti questi ghiacciano, non lo so. Ma, come? Andiamo alle bracciane, andiamo avanti. Allora, il pesce dopo si fanno questi intacchi, guarda. Uno. Così. Due. E tre. Bello larghi, così. E ci mettiamo sempre sale. Solo sale questa volta. Senza origano e senza pepe, perché poi viene nero, guarda. Senza aglio. Solo sale. Così. Solo sale. Così. E si mette ancora il limone, perché si deve prendere il sapore. Dico, ma vedo questo? Ma vedo questo che è andato. Mi viene andato a mangiare un pesce fresco. Lo prendiamo il pesce fresco. Lo prendiamo il pesce fresco. Lo prendiamo il pesce fresco. Lo prendiamo la notte, lo prendiamo il pesce fresco. Lo prendiamo la notte. Lo prendiamo il pesce fresco. Lo prendiamo ancora. Io non lo so. Guarda. E dopo tagliamo così il limone. E ce ne mettiamo uno qua, così. Guarda. E un altro qua. Questo pesce fresco. Questo pesce fresco. Lo prendiamo il limone. Così. Lo prendiamo il limone. Così. Guarda. Ecco. Vedete? Ora, questo pesce fresco. Così, al limone. Si può fare anche all'arancio. Lo stesso sistema si può fare all'arancio. Guarda. E si mette sulla lettica, sul letto, sulla... Lo so. Si è necchiato. Si è necchiato il limone. Guarda. Il forno già precotto caldo. Il forno già precotto caldo. 180. 10 minuti. Penso questo. 10 minuti. E' pronto. Perché ora il pesce butta l'acqua, butta il grasso. E si fa con il limone pure una specie di sughetto che glielo mettiamo sotto. Lo mettiamo a fondo. Lo mettiamo a fondo. Il forno non sabbico. Perché è il pesce che sente caldo a fondo. E poi un po' che... ...l'acqua. A ventola. A ventola. A ventola. Asciutiamo. Ci vediamo. E allora, per la cottura, vedete? Basta che tirate questa spina qua, vedete? Vedete come viene l'isola sua? Vuol dire che il pesce è cotto. Guardate, vedete? Se si fa dura a toglierla, allora è ancora il crudo. Ma il pesce, quanto ci vuole per cogliere il pesce? Dipende dal pesce che avete. C'è quello che c'è il pesciolino da allunapark. Il pesciolino da allunapark che si vede con le balline. Quello vuole subito. C'è quello che c'è il pesce, insomma, il più grosso. Questo ci vuole 20 minuti. Dipende dal pesce che avete. Lasciamo stare in battuta. E allora. A questo punto, lo prendiamo il pesce. Guardate, vedete? Bello che odore di limone. E non ci mettiamo niente. Ci mettiamo solo il sugo che ha fatto voi stessi. Guardate, ora lo facciamo il stesso. Guardate, vedete? E' il sugo che fa il pesce stesso. Del limone, guardate. Aspetta che prendo qua. Perché dopo ci dobbiamo mettere, guardate. Ecco. Ecco. Ecco cosa. Questo è tutto il sugo che ha fatto. Madonna mia che carica. Madonna mia. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Faccio il pesce stesso, piatto sempre si insieme a te lo. Piatto sempre si insieme a te, no? Così. E' un odore di limone. Guardate. Guardate. Ora per l'ucidare ancora il pesce, così. Un pochettino di olio, così. e si riuscite il pesce, siccome questo che volevo e ci mettiamo una bella rosuccia di limone stesso, guardate, il pesce al limone è pronto e pesciato, bene da sotto, rottognazzi.